Ok, bene, allora possiamo riprendere e stavamo parlando della programmazione funzionale, quindi abbiamo parlato di programmazione funzionale e dei metodi sugli array, stavamo parlando del for each, dicendo che fondamentalmente quello che ci serve a scorrere gli array è fare delle operazioni definite dalla nostra callback, quella che passiamo come parametro per ogni elemento dell'array e abbiamo visto che la callback può anche avere più di un parametro che ci può servire per fare operazioni particolari, per esempio abbiamo bisogno dell'indice, dell'elemento che stiamo processando e così via, all'interno della callback possiamo prenderlo come secondo parametro e così via. Vediamo gli altri metodi, adesso vediamo gli altri metodi e poi facciamo un po' di esempi, quindi proviamo a riscrivere alcuni di questi metodi, per esempio questi del libretto, con un approccio di tipo funzionale. ok, every e sum testano, quindi prima every testa che se tutti gli elementi dell'array passano il test, quindi la callback deve ritornarci un boolean, o comunque per come è stato scritto il codice di every ritornerà qualcosa che viene interpretato truthy o falsy da javascript, è un po' come il c, il c se è uguale a 0 o diverso da 0 decide se è falso o vero. esegue la callback una volta per ogni elemento nell'array fino a che trova qualcosa di falso, dopodiché non ha più senso andare avanti e quindi si interrompe. ok, quindi per esempio voglio verificare se tutti gli elementi sono minori di 10, quindi array every, funzione sotto forma di arrow function, parametro x, valore di ritorno, valore boolean se x minore di 10, quindi è come se ci fosse if x minore di 10, return true, else return false. scritto in maniera molto più compatta, tra l'altro si può scrivere anche in c, questa espressione ha un valore booleano, in c dovreste scrivere per forza graph, return, qui si abbrevia ancora di più, singola espressione è il valore di ritorno dell'arrow function. stessa cosa sotto, verifico se tutti gli elementi sono divisibili per 2, quindi se sono pari, falso, quindi quando troverà l'1 esce, quindi smette di scorrere l'array e mi dà direttamente l'every, appunto every vale falso, fine. sum invece fa il contrario, cioè se almeno un elemento soddisfa la condizione, quindi posso avere necessità di fare questa operazione, per esempio se c'è almeno un elemento pari, sì. ovviamente quando l'ha trovato, ritorna, perché non ha più senso andare avanti, perché tanto ne ho trovato almeno 1 e quindi ovviamente smette. smette, no? E' un po' la stessa logica che scrivereste voi, no? Fate un for e quando avete determinato quello che vi interessa, break e fine, no? e quindi queste funzioni sono implementate nella stessa maniera. ok, veniamo a quelle un po' più interessanti, la map e la filter. la map, quindi siamo arrivati alle funzioni che restituiscono gli array, la prima non restituiva nulla, quindi il foriccio, le altre dei boolean, vero o falso, adesso abbiamo quelle che restituiscono degli array, map e filter, ok? quindi map scorre ogni elemento dell'array sul quale viene invocata e chiama la funzione che avete specificato. nota bene la callback che passiamo deve restituire un valore, perché questo valore è quello che viene inserito nel nuovo array che viene restituito dalla map. cioè la map viene chiamata su un array di 10 elementi, ci verrà restituito un nuovo array di 10 elementi. con cosa dentro? con quello che ad ogni giro la callback restituisce. ricordatevi, c'è sempre il valore di ritorno della callback, al massimo è undefined se non l'abbiamo messo, però non metterlo in una callback della map vuol dire che sia qualcosa che non funziona nella nostra logica, perché noi abbiamo una callback che deve andare a riempire un nuovo array, quindi presumibilmente vogliamo metterci qualcosa dentro, lo stesso valore, un valore trasformato, qualsiasi altra cosa, ma vogliamo restituire un valore, quindi non restituirlo del solito indice di un errore. che so, vediamo l'esempio, consta 1, 2, 3, b, a, map, x, per ogni elemento prendi f nel quadrato, x per x, ok? quindi questa funzione restituisce un valore, ok? può essere un numero, una stringa, un oggetto, quello che volete, però restituisce un valore che viene inserito nel nuovo array. di solito finisce che creo un array dello stesso tipo, se così possiamo dire in javascript, cioè se ho dei numeri, magari il processo per tirare fuori altri numeri trasformati, se ho degli oggetti di lavoro per avere altri oggetti e così via, insomma, però di per sé qualsiasi valore restituito dal callback viene inserito nel nuovo array. quindi esempio con le lettere, per esempio quello che abbiamo fatto prima, volevamo fare l'upper case, l'abbiamo fatto col for each, però abbiamo dovuto gestirci noi nel for each l'altro array, torna indietro, ecco, ce lo facevamo noi, let uppercase, stringa vuota, più uguale per raggiungere ogni nuovo pezzetto, invece con la map è naturale, no? con sta uppercase viene fuori un nuovo array, gli array di lettere trasformate in maiuscole. l'unica cosa è che viene fuori un array e non una stringa, quindi se voglio una stringa, devo usare questo comodo metodo dell'array, pensato per le stringhe, per mettere tutto insieme in un'unica stringa, è un array, se ho delle stringhe ognuna concatenata con l'altra, con quello che scrivo qui in mezzo, che so, virgola per fare, che so, tutti i numeri separati da virgola, se metto niente, cioè la stringa vuota, prendo la singola stringa, la catena con la successiva, eccetera, cioè alla fine costruisco la stringa dall'array di caratteri. Ok, poi vediamo gli esempi, andiamo a farli. filter, anch'essa, crea un nuovo array con tutti gli elementi che passano il test implementato dalla funzione, quindi questa volta la funzione di callback ci dà un valore di ritorno booleano, o meglio, che viene interpretato come valore di ritorno booleano, per come hanno scritto la filter, come l'abbiamo scritta noi prima. Se è vero, il nuovo elemento finisce nel nuovo array, scusa, l'elemento finisce nel nuovo array, se è falso, il nuovo elemento viene buttato via, cioè è un filtraggio, no? Prendo solo qualcosa, ciò che mi interessa, ok? Mentre prima con la sum every facevo un test e basta, non creavo nessun array, qui filtro, posso avere un nuovo array vuoto, un nuovo array con tutto quello che c'era prima, un nuovo array solo con alcune cose, a seconda del valore di ritorno di queste callback, ok? Ok, va bene. Quindi facciamo qualche esempio, map, almeno una map, perché le mappe le trovate dappertutto, soprattutto poi quando arriviamo a, come si chiama, react, per creare la lista di elementi nella pagina web, quindi i componenti react, piuttosto che una lista di elementi HTML e così via, fondamentalmente useremo le map, perché una scrittura molto più compatta ci evita di scrivere il for, perché la mettiamo dentro le espressioni chiuse tra graffe e rimane tutto molto più leggibile, però bisogna capire assolutamente che cosa vuol dire. Allora, vediamo se è una versione functional, giusto per evitare di farvi perdere tempo con cose che... No, qui non c'è. Vediamo un po'. Possiamo prendere l'esempio di prima, direi, perché qui... La find l'abbiamo già scritto sotto forma funzionale, no? Quindi l'abbiamo un po' anticipato, ma questa è la forma funzionale, no? Della find. Cioè, di fatti l'avevamo chiamata filter, quindi se vogliamo scrivere noi una filter facciamo in questa maniera. Se invece, ecco, possiamo... Possiamo cambiare il codice della filter, facciamo così la faccia, chiamiamo this filter functional. Functional. Quindi sempre la callback, ok? La graffe, ok? Io qui ho fatto il for, no? Perché devo fare il for? Ho un array. This list filter, no? Filter. E che passo alla filter? Anzi, attacchiamo. Cosa passo? La callback. Ce l'ho già, no? Ok? E... Cosa faccio? Devo restituire quello che mi ritorna alla filter dell'array, perché è un array, no? Return. This filter filter. Se voglio, posso abbreviare tutto, eh? Posso buttare via tutto quanto, la graffe return, eh? E scrivere anche una roba così. Proviamo. E fondamentalmente sto usando il metodo filter dell'array che è contenuto dentro il mio oggetto examList, no? Per implementare, per usare l'implementazione già fatta della filter, anziché usare la mia che mette il for, eh? Quindi filter functional, vediamo un po', filter functional. Dov'era il libretto? Ahia! C'è qualcosa che non ho. Ah, non sono dentro la cartella libretto. Però c'è ancora, eh? E due string. Pissà che non ha preso qualcosa. Allora, debaggiamo. filter functional. String is not a function. Perché? Mi sa che questo E2 non viene fuori come vogliamo noi. E, e code, mi sa che la callback, noi dobbiamo passare una callback che vada a prenderci l'elemento come serve a noi. Quindi la callback che passiamo qui deve essere una callback che prende come parametro l'elemento dell'array che quindi è l'exam. E ci restituisce una funzione booleana. Cioè un valore booleano. Quindi, di per sé, proviamo a debaggare. Quindi, mettiamo, sì? Istituisce un array, giustamente, sì, sì, quindi non possiamo chiamare str sull'array. Bravissimo. Quindi, E2 è un array, ok? Dai, ce lo facciamo questo debaggare, proviamo, eh? Così, vediamo se funziona, eh? Quindi, eh, node, eh, dunque, credo sia questo, no? Debug, c'è eseguito quello corretto? no. Quindi, run current file, launch JSON, vabbè, creiamo la configurazione, così tanto ci, ci abituiamo, eh? Quindi, tanto noi siamo nel nostro progetto, perché abbiamo la nostra cartella, eh, siamo nella cartella, libretto, ok? Ehm, quindi, come c'è il package JSON, è tutto, se io voglio debuggare, eh, posso, anche crearmi una configurazione per il debug, questo non c'è, dove è andato? Quindi, add configuration, che è la cosa più semplice, perché gestire il singolo file, è sempre difficile. mi ha fatto tutto da solo, io ho scritto, add configuration, praticamente mi ha detto di eseguire il libretto, eh, ok? Quindi, salvo solo il file, e poi, così almeno faccio, launch program, se non sbaglio, ok? Adesso mi esegui il libretto, e si è fermato sul breakpoint, ok? Andiamo a vedere quello che diceva il vostro collega, è giusto, eh, bravissimo, E2, vedete che E2 non è un E, non è un elemento, ma è un array, eh, di un elemento, però, e chiaramente va trattato diversamente, non potete trattarlo come un singolo elemento, eh, adesso consentitemi di, allora, fermiamo, togliamo il breakpoint, consentitemi di scrivere così, chiaramente è molto grezzo, eh, come codice, perché bisognerebbe vedere se, se l'array non è vuoto, se no, se faccio 0, chiaramente se l'array è vuoto non funziona, e così via, però, eh, dunque salviamo, non dimenticatemi mai di salvare, perché, errore comune, eh, e poi eseguiamo, perché non si ricorda il comando, libretto, ok, quindi, ci viene fuori, la stessa cosa, ok, quindi abbiamo usato il metodo funzionale, come ci suggeriva il vostro collega, ricordarsi, che torna un array, ok, possiamo, fatemi provare ancora, ecco, facciamo un, proprio, giochiamo, nel senso, proviamo a fare una map, trasformiamo i nostri voti, no, eh, this increase, eh, voto, eh, ok, ci aumentiamo i nostri voti, ok, eh, cosa, eh, cosa passiamo, passiamo niente, nel senso, questo è l'oggetto exam list, eh, ha già tutto dentro, e voglio, aumentare i miei voti, diciamo di uno, mi accontento, se no, potrei passarlo come parametro, insomma, eh, allora, facciamo così, this list, eh, map, c'è la map, passiamo a una callback, cosa fa questa callback? Trasforma i vari elementi, eh, x, x più uno, ok, questa operazione verrà applicata ogni elemento dell'array, e ci, eh, fa più uno, x però, x è l'esame, eh, quindi in realtà io voglio x voto, ok, x è l'esame, io vorrei, un, vedete, non è sempre banale, perché io qui devo prendere, l'esame, che è l'elemento dell'array, ok, e voglio creare un nuovo, elemento, eh, un, un nuovo, eh, un nuovo oggetto, ok, quindi, diciamo, const, new, eh, new x, eh, uguale, eh, facciamo, così intanto ripassiamo, eh, array, dunque il from, adesso non mi ricordo mai se il from, sì, letterale, ah no, però scusate, object, è un oggetto, object assign, no, quindi, quindi creiamo un nuovo oggetto, ok, eh, mettiamo dentro, eh, x, ok, e poi mettiamo, eh, voto, mi sembra, è anche chiamato voto, chiudiamo questa roba, che, voto, voto, voto più uno, ok, eh, adesso stiamo allungando un po' troppo, andiamo a capo, eh, quindi, allora, x, quindi, stiamo creando un nuovo oggetto, neo x, in cui c'è il vecchio, ma abbiamo modificato la proprietà voto, eh, andiamo a chiudere tutte le graffe, e cosa ne facciamo, list map, questo è un nuovo array, dobbiamo farne qualcosa, o lo restituiamo, alla funzione che chiamo, o ce lo assegniamo, dentro, this, eh, this list, ok, quindi, decidiamo cosa farne, eh, quindi, proviamo a fare la cosa più semplice, in questo momento facciamo il return, ok, allora, console, anzi, facciamo, eh, const list 2, exams, poi, poi variamo, eh, eh, com'è che l'abbiamo chiamato, eh, increase vote, increase vote, e poi, eh, vediamoci list 2, così vediamo che, che cosa c'è dentro, ok, quindi, questo, lo togliamo, facciamo il terminal, che è sempre, qui, 2, libretto, no, no, voto not defined, voto not with find, perché, x, object assign list, voto, ok, però voto me lo da, unrime up 57, programmando live, ovviamente, viene sempre fuori così, x, eh, x punto voto, eh, voto non esiste come variabile, esiste solo come proprietà di voto, di x, che, che è l'elemento della, dell'array, vediamo se ho sistemato tutto, ok, ci sono due undefined, perché, perché non, vedete, ho fatto una funzione che non restituisce, no, il valore di ritorno è undefined, eh, return new x, ok, quindi, piano piano, sistemiamo, questa volta, eh, c'è, c'è un array, che inizia con le quadre, con gli oggetti, nuovi oggetti, in cui ho 31, e 30, prima erano, 30 e 29, no, ok, adesso qui ho fatto più uno, tanto per fare una prova, no, però, volevo, solo farvi capire, uno, la map, la map la possiamo usare su qualsiasi array, questo array, eh, viene passato, elemento per elemento, l'elemento è, questo, il parametro, della, callback, questo elemento, può essere qualsiasi, cosa, nel nostro caso, è il riferimento all'oggetto exam, ok, allora, noi dobbiamo decidere, che cosa fare, avremmo anche potuto decidere, di modificare, l'exam, eh, quindi, eh, direttamente, andare a fare una modifica, dentro l'oggetto, però, questo, eh, diciamo, eh, in genere, non si fa, perché, perché, se io ho, questo paradigma, della programmazione funzionale, in mente, voglio creare un nuovo array, con, un nuovo contenuto, completamente indipendente, dal precedente, ok, se no, eh, se no, tanto valeva che usassi il for each, no, cosa usa una map, se, cioè, il for each, faceva la stessa cosa, ok, quindi, diciamo che io voglio duplicare, il mio array, ho duplicato il mio array, occhio che, quando duplico qualcosa, se sono numeri, se sono stringhe, se sono boolean, vengono copiati, e quindi, esiste una nuova, chiamiamole istanza, quindi, una nuova copia, se sono riferimenti, quindi, sono array, oggetti, funzioni, e, viene copiato il riferimento, quindi, se io non avessi scritto, obgetto assign, e mi creavo un nuovo oggetto, il riferimento che c'è, dentro, quello che ritorno, cioè, scrivendo solo, new x uguale x, è quello vecchio, no, quindi, io faccio, le mie modifiche, su quell'elemento, ma anche se sono dentro la map, che ritorna il nuovo array, la modifica, l'ho fatta anche sull'array vecchio, ok, perché, perché il riferimento è lo stesso, io sto modificando, l'array è nuovo, nel senso, esistono due array, ma i riferimenti puntano tutti, allo stesso oggetto, ok, quindi, quando devo creare il nuovo oggetto, devo, effettivamente, crearlo, cioè, non c'è nulla che mi saldi dal creare il nuovo oggetto, ok, avrei anche potuto aprire le grave, fare, diciamo, voto due punti, x punto voto, no, scusa, voto x punto voto più uno, ma ci so, due punti, x punto nome, codice, due punti, x punto codice, eccetera, come sapete, i programmatori sono pigri, avrei potuto farmi il for in, girare sulle proprietà, uso la sintassi più compatta, che nel caso di javascript, è sostanzialmente questa, prendere l'oggetto vuoto, assegnarci il nuovo oggetto, e poi sovrascrivere, anzi, scusate, assegnare il vecchio, le proprietà del vecchio oggetto, e poi sovrascrivere quello che mi interessa, ok, questo è un pattern di nuovo, abbastanza frequente, eh, per questo volevo farvi vedere, questo meccanismo, eh, ok, eh, devo, come avete visto, non dimenticarmi di ritornarlo, ok, quindi, va bene, di nuovo, questa narrow function, se voglio posso abbreviarla, posso, eh, no, togliere tutto quanto, io però poi ve lo rimetterei, ma giusto perché, non mi piace, diciamo, scrivere le cose in maniera estremamente compatta, no, vedete che continua a funzionare, perché? Perché questa è una singola espressione, nella narrow function, se la singola espressione ha un valore, quello è il valore di ritorno, però se compattiamo, cioè, tutto all'inizio, finisce che, cioè, non ci capiamo più niente, eh, ok, quindi, io questo, ve lo lascerei così, eh, facciamo, quindi, è proprio un esperimentino, eh, ve lo committo subito, così, add map, ops, ecco, ovviamente, se faccio il commit vuoto, mi dice, guarda, stai facendo un commit vuoto, eh, prima, devo aggiungere tutto, tra le cose, di cui verrà fatto il commit, eh, launch, vedete voi, eh, possiamo anche fare il commit, tanto dipende solo dal folder, che è parametri, quindi possiamo fare il commit, add map, eh, quindi, chi ha il reposito ricollegato, adesso se lo vede, eh, adesso, vabbè, c'è questo bottone, ma fa lo stesso, questo sync vuol dire che fa sia pull che push, ma siccome scrivo solo io, diciamo, va bene allo stesso, ok, ehm, le slide, quindi abbiamo sperimentato un po' con la map, questo è un esempio banalissimo, no, abbiamo fatto una cosa un po' più complicata, abbiamo duplicato degli oggetti, creato dei nuovi oggetti, per un nuovo array, e quindi ci siamo dovuti ricordare come si copiano degli oggetti, eh, eh, va bene, quindi la filter l'abbiamo vista, ecco, vediamo la reduce, eh, la reduce, scusate, dunque, per la reduce, le cose sono un po' diverse, perché abbiamo detto, restituisce un valore, no, prende la callback, richiama la callback, eh, che, eh, va su ogni elemento e applica un'operazione, tira fuori un valore, che viene usato dalla callback successiva, quindi dalla chiamata alla callback successiva, e, eh, e alla fine, l'ultima callback ci dà il risultato, no, quindi, eh, ecco, questa è un'operazione abbastanza comune nel functional programming, l'avrete già sentito parlare, no, del cosiddetto map reduce, alla fine, sono questi metodi qua, uno applica delle operazioni a ogni elemento, uno mette insieme per tirare fuori un risultato, eh, eh, ok, quindi, ecco la reduce, prende due parametri, uno è la funzione che fa reduce, ok, eh, quindi, prende due valori, e ne tira fuori uno solo, ok, quindi, ha questi parametri due obbligatori, il cosiddetto accumulator, che adesso vediamo cos'è, e il valore corrente, quindi, il corrente è quello dell'array, no, quindi l'elemento dell'array, e poi c'è un valore opzionale iniziale, che verrà passato come accumulator, eh, alla prima callback, perché sennò la prima callback non ha un accumulator, l'accumulator è il risultato del giro della callback precedente, all'inizio, non c'è, guardiamo un esempio, di una reduce, che ci fa la somma, eh, prendiamo un array, facciamo la somma, perché dobbiamo fare tutta questa complicazione per far una somma, è chiaro che possiamo tranquillamente sempre scrivere tutto, con un for, i uguale 0, i, for off, eccetera, non c'è nulla di male, diciamo, per completezza, vi facciamo vedere la reduce, sicuramente, è usata un po' meno, eh, perché, bisogna entrare in questo paradigma funzionale per, diciamo, usarla al meglio, però ogni tanto può venire comoda, eh, perché? perché avete una catena di operazione, alla fine fate reduce e tirate fuori un risultato, no? Se no, dovete fermarvi, fare un for esterno a tutta la catena, e, e, e tirare, per tirare fuori, magari il singolo numero, Ok, eh, quindi, vediamo l'esempio, 54321, a, reduce, quindi l'array, reduce, passiamo una callback, come sempre, di due parametri, accumulator e current value, eh, li abbiamo chiamati come nell'esempio, che cosa fa? Se voglio la somma, prenderà l'accumulator, che è l'ultimo risultato disponibile, ci somma il current value, no? accumulator più current value, ok, virgola, questo virgola separa la callback dal valore iniziale, questo 0 è passato alla reduce, eh, non fa parte della callback, perché la callback finisce qui alla virgola, che è il valore di ritorno dell'unrow function, 0, ovviamente se voglio fare una somma, inizio da 0, no? Aggiungo 0 all'inizio, così ho la somma. Posso fare la moltiplicazione di tutto, chiaramente se metto 0, otterrò 0, non è la maniera di fare, devo moltiplicare la prima volta per 1, no? Per l'elemento neutro. Posso, che so, fare il massimo, se ogni volta, se trovo qualcosa maggiore del accumulatore, cioè, qui è chiamato accumulatore, però di per sé è l'ultimo risultato della callback, quindi se cerco il massimo sarà il massimo corrente, se cerco il minimo sarà il minimo corrente, se sto facendo altre operazioni, dipende dalla logica dell'operazione. Se ho qualcosa di più grande, restituisco qualcosa di più grande, altrimenti il valore, no? Alla fine mi ritrovo col massimo, verrà fuori 5. Qui non c'è scritto nulla, perché credo, dunque di default, avrà un valore 0, o qualcosa, o undefined, insomma, qualcosa che vale, che sia ragionevole. Comunque, se avete bisogno lo mettete, quindi se sono tutti positivi, mettete, potete mettere 0, insomma, dipende dall'operazione che state facendo. Questo è un cheat sheet, diciamo, vi fa vedere tutti i vari, graficamente, tutti i vari metodi funzionali degli array. C'è anche qualcos'altro, per esempio, c'è fill, find index, insomma, che però restituiscono, non degli array, quindi ci interessano un po' meno, no? la programmazione funzionale esprime il suo massimo quando restituiamo l'array e concateniamo le operazioni per ottenere un risultato. Come vediamo in questo esempio, che è l'ultimo della programmazione funzionale. Cioè, io ho un array che contiene delle informazioni, no? qui, per esempio, ho tutti questi veicoli, un oggetto per ogni veicolo con le sue proprietà, no? Costruttore, modello, tipo, prezzo, eccetera, eccetera. Voglio cercare il prezzo medio di tutti i SUV, ok? Se dovessi scrivere in programmazione normale, cosa farei? Farei for, for of, for i uguale a zero, eccetera, no? Allora, if quell'elemento è di tipo SUV, allora, prendi, somma, il valore del prezzo e prendi un contatore, aggiungi uno, quando arrivi alla fine, prendi il totale del prezzo, dividi per il contatore e ho ottenuto il risultato. Questa è la programmazione tradizionale che spero che tutti siate in grado di fare, no? Questo invece è l'equivalente in programmazione funzionale, cioè, questo è quello che voglio ottenere, no? Vehicles e l'array, punto filter, prima cosa faccio un filter, ok? Filter, voglio solo quelli che sono dei SUV, quindi, callback che mi dà vero solamente nel momento in cui l'oggetto è di tipo SUV, cioè, io so come è fatto l'oggetto, ovviamente, eh, questa callback funziona solo per questo tipo di oggetti, cioè, se lo scrivo, se scrivo tipo 2 non funziona più, se io qui non scrivo tipo 2, perché si applica a quegli oggetti, no? Quindi, callback, prendo l'elemento che è l'oggetto, v.type uguale SUV, ok? Quindi a questo punto, qui del codice, qui dopo filter, ho un array nuovo, ok? Con i riferimenti agli oggetti vecchi, ma in questo momento ci va bene, eh? Ma ho solo un elemento, un array più piccolo che ha i riferimenti solo agli oggetti che hanno scritto tipo SUV, ok? A questo punto, cosa faccio? Eh, avrei potuto anche fare tutto nella reduce, eh, ma, eh, però, per provare, diciamo, a ragionare in termini più funzionali. Faccio una map e tiro fuori un nuovo array, questa volta non è più di oggetti, ma è un array di numeri, ok? Cioè, io semplicemente, guardate come è semplice questa callback, V, elemento dell'array, V.price, cioè dall'oggetto estrae il price, quindi, siamo passati da un array di riferimenti agli oggetti a un array di numeri, ok? Ai quali, prendiamo, con la reduce, e applichiamo, diciamo, lo stesso meccanismo che abbiamo visto qui, per fare la somma, solo che vogliamo fare la media, ok? Quindi, potevamo semplicemente far la somma e poi dopo scrivere, eh, quindi questo sarebbe stato un array, fare totale diviso array.length, ma non ci piace, ovviamente, perché? Perché così vediamo un po' la potenzialità delle varie map reduce e dei loro parametri, quindi, prendiamo la callback della reduce che prende obbligatoriamente due parametri, uno l'accumulatore, somma, e uno il valore corrente, che è il prezzo, perché l'abbiamo tirato fuori prima con la map, è un array di numeri, ok? e poi altri due parametri che adesso vi faccio vedere ci servono e ci restituisce un valore che è la somma più il prezzo, eh, diciamo che se avessimo voluto fare la somma avremmo chiuso qui, questi due parametri in grassetto, via, non ci servono e il valore di ritorno sarebbe stato sum più price, virgola zero perché per fare la somma partire da zero partiamo da zero ovviamente, no? Perché zero non ci disturba la prima operazione. Come faccio a fare la media? Così vediamo a cosa ci può servire avere i parametri addizionali nella callback. Allora, ogni volta anziché addizionare il il prezzo e quindi alla fine arrivare con la somma, no? Addizione il prezzo diviso per la lunghezza dell'array, ok? Quindi alla fine il risultato è già diviso per la lunghezza dell'array perché tutti gli addendi sono stati divisi per la lunghezza dell'array che è quello che mi serve per fare la media. Però per tirar fuori la lunghezza dell'array come faccio? Perché la lunghezza dell'array la sono solo a questo punto, dopo la filter. Non è che ce l'ho all'inizio, non è un numero fisso che tiro fuori da qualche parte, e quindi allora questo è il motivo per cui come terzo parametro c'è i l'indice che in questo momento non mi interessa però lo devo mettere per far capire che a me interessa il quarto e il quarto è l'array allora il quarto è l'array che viene passato alla callback e io scrivo array.length così posso dividere per la lunghezza dell'array ok? perché dove estrarre l'array eccetera oppure faccio la somma già dividendo no? quindi se devo fare una media per esempio ok? quindi potete provare questo esempio che potete fare copia e colla dalle slide ma se no lo possiamo possiamo anche provarlo un attimo che ora è? sì proviamolo un istante così ce l'avete dove lo metto anche sul repository quindi allora quindi siamo in week 2 week 2 facciamo SUV no come lo chiamiamo questo? vehicles va? vehicles e dunque ce l'avevo mi so che è L03 function e faccio il copia e incolla del codice se no perdiamo troppo tempo però è esattamente quello dell'esempio delle slide quindi quindi use strict use strict che non si sa mai ci salva nel momento in cui meno ce l'aspettiamo allora vehicles apriamo il terminale e week 02 node vehicles ok allora viene fuori quello diciamo che ci aspettavamo cosa possiamo cosa posso farvi vedere posso farvi vedere l'array eh facciamo così console è molto sporco solo per poi lo cancello eh quindi per chi ci segue in ah beh c'era già sotto facciamo così ci segue nei quindi vedete l'array l'array sono i prezzi a quel punto lì no quindi dopo la map ho i prezzi se io avessi cancellato la map prima c'erano solo i sub ok sub poi la map me li fa diventare i prezzi e poi la reduce mi fa la media ok quindi se io tolgo eh ho messo il punto ovviamente queste vanno a capo ma sono in catena eh nel senso è un metodo dietro l'altro perché ogni volta si restituisce l'array e ovviamente quando non restituisco più l'array restituisco il valore perché ho finito il calcolo eh quindi eh appunto vedete i che rimane di quel colore lì non è semplicemente utilizzato ma così vuole la callback e chi ha scritto la reduce una callback da quattro parametri due obbligatori e due opzionali obbligatori perché mi servono per farla funzionare no se non glieli metto non funziona invece gli altri me li passa eh eh e posso semplicemente ignorarli non usarli oppure se ne ho bisogno appunto li li uso ok ehm ok quindi questo ve l'ho messo eh quindi commit vehicles vehicles programmazione funzionale vi faccio sempre i push perché spero che chi di voi viene qui col computer vuole provare qualcosa non sa qualche dubbio così nel frattempo volendo può ok allora arriviamo all'ultimo argomento di oggi che cominciamo ad accennare eh eh quindi mi sembra siamo abbastanza in tempo forse quasi in anticipo se qualcuno ha dei dubbi o delle domande dica è perché siamo qui apposta e vogliamo avere la lezione interattiva sfruttiamo il fatto che siamo in presenza almeno adesso poi si sa mai cosa succede a questo mondo comunque eh ok quindi abbiamo programmazione funzionale abbiamo parlato di funzioni funzioni invocate in maniera sincrona non aspettiamo sempre che terminino che siamo noi o che siamo o che siano i metodi che abbiamo visto cioè la map chiama la callback e aspetta il valore di ritorno la reduce chiama la callback e aspetta il valore di ritorno la every la for each e così via ok allora eh dunque eh come facciamo a introdurre la questione dell'asincrono cioè allora prima di tutto javascript è un flusso di esecuzione single trader cioè un unico flusso di esecuzione no come i programmi che avete visto finora cioè voi scrivete un programma in C in python in java insomma quello che volete se non create trader non fate delle cose particolari questo programma viene eseguito dall'inizio alla fine faccio una chiamata una funzione che deve aspettare il risultato aspetto no la tipica momento in cui aspetto è quando devo accedere a dei dispositivi lenti caricare i dati da un file il file system adesso abbiamo i dischi più veloci però fondamentalmente si aspetta anche in quel caso input output e così via ok quindi questo è il modo di funzionamento anche dell'interprete javascript che sia node cioè quello che stiamo usando noi per i nostri esempi che sia quello dentro il browser dentro la pagina web del nostro browser quindi per lo meno nella versione più semplice javascript non può creare thread e farli funzionare in parallelo e allora come facciamo però a far funzionare qualcosa in maniera che non sia singola per esempio no che so facciamo eseguire qualcosa tra un po' aspettiamo due secondi no e poi facciamo eseguire qualcosa la solita stampa video perché ci viene comoda ma pezzetti di codice qualsiasi cosa ok come facciamo ovviamente diciamo il sistema più semplice ma anche diciamo sconsigliatissimo anzi direi vietato è di far far qualcosa altro al computer di inutile mentre aspettiamo no cioè la cosiddetta busy form of waiting cioè facciamo segnare le istruzioni fare dei calcoli mentre aspettiamo che passi questo tempo ogni tanto controlliamo se è passato il tempo no però chiaramente non è il modo di programmare no perché perché dobbiamo sprecare risorse per aspettare che passi del tempo cioè si verifichi un certo evento vorremmo poter collegare il fatto che si verifica un certo evento al fatto che viene eseguito del codice allora eseguire del codice ce lo abbiamo sono le callback e in javascript siamo così fortunati che le callback sono delle funzioni che possiamo passare a destra e a sinistra quindi come parametro di altre funzioni e quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi no fossimo in c per dire dovremmo cominciare a trafficare con i puntatori alle funzioni e così via insomma cose complicate qui invece è estremamente banale come avete visto scriviamo un arrow function e abbiamo un parametro lo scriviamo direttamente nella chiamata se vogliamo ok quindi questo problema l'abbiamo sistemato il secondo problema è sapere come facciamo a diciamo farci richiamare allora ovviamente un evento asincrono deve avvenire per un qualche motivo o lo impostiamo noi questo evento asincrono che si verificherà oppure si verificherà per cause esterne quando siamo nelle pagine web le cause esterne sono l'interazione dell'utente l'utente fa un click quello è un evento asincrono non sappiamo quando si verificherà ma non è che possiamo far aspettare il nostro codice javascript lì che fa un loop fino a che if clicked no e andare avanti così fino a che qualcuno non fa click la cosa compiuta si mette a girare vorticosamente perché sta eseguendo del codice e non ne ottenete nulla perché non state facendo nulla quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci notifichi del fatto che è accaduto quell'evento allora nel browser ci saranno delle funzioni apposta quindi i cosiddetti event handler cioè i gestori di eventi che a cui possiamo dare del codice da eseguire glielo diamo sotto forma di funzioni da chiamare ok nel momento in cui non abbiamo il browser abbiamo il nostro ambiente di esecuzione node che qualche evento comunque lo supporta ovviamente non è che c'è il click che non è un browser non è una pagina web possiamo però impostare degli eventi che si verificheranno la cosa più semplice è un time out che scade quindi dire ok dopo un po' dopo due secondi tra due secondi chiama questo codice come faccio? c'è una primitiva c'è una funzione apposta dell'ambiente che tra l'altro sarà disponibile anche nell'interno del browser perché anche nel browser posso fare questa cosa che dice dopo un certo periodo di tempo richiama questo codice e il codice è il riferimento a una funzione come abbiamo detto finora quindi noi definiamo il codice da eseguire sotto forma di funzione gli diamo un nome function quello che volete oppure lo assegniamo a una variabile che è la cosa un po' più comune in javascript avrete visto oramai e poi e poi lo passiamo a questa set timeout che va a dire all'ambiente di esecuzione che sia node sia il browser eccetera richiamami questo codice dopo che è passato questo periodo di tempo ok e aggiungo poi per spiegarvi questa questione dell'event loop se non stai facendo altro perché siamo single thread se il codice è impegnato a fare delle cose aspetta nel momento in cui non c'è più niente da fare verrà chiamato ciò che c'è in coda di esecuzione quindi per due secondi di sicuro la delete after timeout non ci verrà chiamata dopo due secondi questo codice è lì pronto ad essere eseguito se l'interprete javascript che sia node del browser non sta facendo niente altro va a prendere la prima cosa che c'è da eseguire e la esegue ok questo è il cosiddetto event loop cioè un loop che gira sulle cose che ci sono da fare il browser poi non si chiude e sta lì perché la pagina ce l'abbiamo aperta se non ha niente da fare aspetta node invece se non ha niente da fare termina come i nostri programmi che abbiamo visto finora diamo invio esegue e termina perché non ha più niente da fare ok quindi adesso facciamo una prova che è la cosa più semplice quindi io vi ho già fatto tutto questo discorso appunto dipenderà poi in che ambiente ci troviamo noi cominciamo a diciamo a fare qualche esempio in node perché è più semplice possiamo scrivere queste due righe di codice e vedere immediatamente stampa schermo e via poi però lo porteremo a dentro il browser questo comportamento e questo comportamento ci serve moltissimo perché dovremmo di nuovo come siamo entrati nell'ottica della programmazione funzionale dobbiamo entrare nell'ottica della programmazione asincrona che è proprio la chiave di javascript cioè se non riusciamo a sfruttare la programmazione asincrona in javascript non riusciremo a combinare niente diciamo di avanzato avanzato ma anche non troppo nel senso il minimo che oggigiorno serve per far funzionare le pagine anche perché su questi concetti si basano tutta una serie di funzioni che sono messe oramai a disposizione nell'ambiente di esecuzione del browser cioè il browser ci ritorna delle funzioni che vengono eseguite in maniera sincrona e quindi dobbiamo saperle gestire se no non riusciamo a scrivere il codice nel browser banale banale ok quindi se ci sono domande dubbi rispondo se no facciamo una prova quindi adesso questa la readline non è tanto intuitiva in javascript ma noi andiamo a provare pure questo del timeout chissà se ce l'ho già scritta ma scriviamola tanto si fa in fretta ok quindi torniamo sempre nella nostra cartella wick02 ci creiamo un altro file ok questo lo chiamiamo facciamo timeout ok quindi solita cosa use strict allora prima di tutto il codice che vogliamo eseguire const diciamo ciao ok diciamo che vogliamo quindi una funzione che non prende parametri e mi fa un console log ciao proprio le cose banali no ok e poi come avevamo sulle slide no abbiamo scritto l'equivalente di questa funzione set timeout la chiamiamo ecco questi sono millisecondi non ve l'ho detto ma basta andarsela a cercare sulla mdn no la funzione e dobbiamo quindi dare come parametro adesso ce la cerchiamo set timeout quindi handler che sarà ciao virgola il tempo eh mille sono mille mille secondi cioè un secondo ok quindi salvo possiamo ecco aprire anche la mdn così vediamo eh quindi avevamo non c'è cerca ok set timeout ok e la porta come web però è a disposizione anche dentro node eh quindi è una funzione a disposizione a livello globale eh come parametri prende una funzione il cui codice viene eseguito quando il timeout eh expire cioè è trascorso eh vabbè qui c'è una stringa ma diciamo che questa non è raccomandata appunto e il delay in millisecondi dopodiché viene eseguita questa funzione ok notare che questo è il minimo perché se l'interprete javascript è occupato a fare del resto c'è un singolo thread non è che parte il nuovo thread che fa quello che dobbiamo fare noi e poi ci sono gli eventuali parametri della nostra funzione ma noi abbiamo fatto una funzione senza parametri quindi non abbiamo bisogno di passare nulla ok cosa ritorna un id eh vabbè nel caso in cui volessimo annullare il timer possiamo abbiamo bisogno di questo id per fare clear timeout ma diciamo che questo semplice esempio non ci serve ok bene proviamo quindi new terminal quindi qui siamo in week 02 node come l'abbiamo timeout ecco notate che aspetta e poi mi fa ciao ok quindi mettiamo 2000 così si vede di più quindi io lo lancio il codice sette in moto è già stato eseguito all'inizio ok a quel punto node non sta facendo più niente però ha in coda una funzione da eseguire ad un certo istante di tempo in quel event loop che dicevamo prima che di fatto è una coda di funzione da eseguire no chiaramente qui gli eventi li possiamo creare solo noi in questa maniera no dicendo dopo un po' esegui questo nel browser si creeranno anche con l'interazione dell'utente ok oppure va bene poi nelle prossime lezioni vedremo che si creano da soli nel momento in cui interagiamo con sistemi asincroni cioè andiamo a legge del file system andiamo a cercare in un db attendiamo la risposta e così via allora questo è input output che per definizione è asincrono e quindi nel momento in cui hanno terminato le operazioni hanno un risultato le nostre funzioni il codice che abbiamo scritto verrà richiamato e eseguito in quel momento ok quindi abbiamo realizzato la nostra prima callback che viene eseguita in maniera asincrona cioè quando lo decide l'interprete non quando lo decidiamo noi cioè noi decidiamo nel senso che diciamo tra due secondi però il momento vero in cui viene eseguita dipende dall'interprete dall'ambiente di esecuzione ok se noi volessimo mettere dei parametri diciamo così intanto ripassiamo un po' dunque console.log mettiamo un template literal ciao tizio tizio così intanto facciamo un po' di pratica enrico chiudiamo la tonda ok salviamo quindi abbiamo anche la possibilità di passare i parametri a queste callback come si fa dal terzo parametro in poi sono tutti i parametri che vanno a finire nella nostra callback i primi due sono riservati perché il primo è il riferimento al codice della callback e il secondo è il tempo ok dal terzo in poi vanno a noi ok dunque che ora è 11.10 ok quindi dove siamo ok quindi noi scriveremo quasi sempre codice asincrono quando programmeremo per il web tra qualche settimana quasi sempre siamo lì che scriviamo codice asincrono anzi vorremmo limitare il più possibile il codice asincrono ok perché cosa succede nel momento in cui siamo nel browser il browser sta nella pagina del browser che sta eseguendo del javascript sta eseguendo quel codice javascript non fa niente altro è single traded ok se noi facciamo processare un array da 10.000 elementi e ci mette 5 secondi perché in 5 secondi noi clicchiamo facciamo tutto quello che vogliamo sulla pagina non succede proprio niente perché se ai nostri eventi click su giù eccetera deve rispondere a un pezzo di codice quel pezzo di codice è lì pronto per essere eseguito ma non può essere eseguito in quel momento perché c'è del resto in esecuzione quindi vogliamo il più possibile limitare le parti di codice che scriviamo in maniera sincrona perché sono bloccanti e quindi deve essere l'eccezione non la regola che scriviamo questo tipo di codice si può fare per del codice particolarmente piccolo e veloce se appunto non so trattiamo un array da tre elementi vabbè possiamo scriverlo come vogliamo con la map con la nostra callback sincrona e così via però se dobbiamo andare a chiedere dell'informazione la cosa tipica è chiedere dell'informazione al server quel pezzo di codice deve essere assolutamente assincrono perché perché se no finché non ci risponde qualcuno è tutto bloccato l'utente ha l'impressione che si sia inchiodato tutto ok oppure appunto se eseguiamo delle operazioni troppo pesanti che non si possono interrompere e di nuovo siamo nella stessa condizione quindi noi appunto sul nel browser fondamentalmente ci capita appunto di caricare informazioni dalla rete ok per il resto access in database è più che altro per quando vedremo questo tipo di programmazione però lato server perché il database starà sul server però anche lì avendo un unico thread dobbiamo fare in modo di non bloccare perché nel momento in cui blocchiamo eventuali altre richieste che arrivano al server non possono essere servite c'è tutto pronto ma se noi blocchiamo quindi stiamo eseguendo il codice altro codice non può essere eseguito avremo banalmente sul server un event handler che viene richiamato nel momento in cui ci arriva la richiesta http ogni richiesta un event handler però se quegli event handler non sono brevi se ci arrivano tante richieste stanno tutti in attesa di eseguire il loro event handler e quindi chi le ha chiamate non ha la risposta ok quindi questo vale in generale dentro il browser ma vale anche fuori quando noi scriveremo per esempio il server in javascript che girerà dentro l'ambiente note può fare accesso al disco al database e così via ok quindi quindi possiamo io direi vi faccio vedere ehm vabbè l'i c'è il beh il parametri che abbiamo visti eh è stato un pezzo ecco vi faccio vedere l'interval giusto per ehm dunque dove è che ecco quindi sempre qua eh paste quindi costi di set interval eh qui mettiamo mille ma a casa lì non ci pestiamo i piedi quindi ehm ok però così non fa niente nel senso che gli abbiamo dato una funzione che non fa nulla ok come vedete questa è la funzione il set interval possiamo anche andarlo a vedere eh set interval oh dove è set in set interval e come il set timeout solo che è periodico nel senso che ehm ehm ogni ehm ogni ogni tot millisecondi ci richiama la funzione fino a che noi non diciamo basta ok quindi ehm allora intanto il clear interval lo buttiamo via perché tanto diciamo per ora non ci serve e qui console log ehm ciao eh sempre ciao vabbè pazienza ma va bene così ok quindi abbiamo lasciato il set timeout vecchio eh dopo un secondo cosa succede succede che ci verrà chiamato il console log ciao Enrico fine ok quello esaurito invece l'interval è periodico eh finché noi non gli diciamo basta eh verrà richiamato ogni due eh secondi eh questa callback di cui abbiamo già scritto il codice lì per semplicità eh solo per far prima quindi vediamo ok e se non facciamo nulla e se non facciamo nulla questo programma va avanti in eterno eh perché e perché eh perché ogni volta la set timeout eh scusa la set interval è fatta per rimettere in coda l'evento che dopo due secondi di chiamare la callback ok quindi come facciamo a fermarla mi raccomando non inchiodatevi su una cosa simile facciamo qui sotto nel terminal ctrl c e si ferma no? cioè noi siamo gli amministratori del sistema eh possiamo sempre fermare un programma in esecuzione no? è una cosa che è al di fuori del programma stesso nel browser non avremo niente da fermare nel senso che la cosa è implicita cioè la pagina web l'abbiamo caricata e quella inizia a esistere col suo eh event loop non termina fino a quando non chiudiamo la pagina nel browser quando chiudiamo la pagina nel browser termina ma fino a quando è aperta gli eventi possono sempre arrivare perché se io ci clicco quello arriva ok? invece se l'ambiente lo lo facciamo girare noi lanciando node chiaramente dobbiamo noi eh decidere quando fermarlo ok? ehm quindi crear interval se lo dobbiamo fare noi esplicitamente va bene potremmo fare ecco facciamo così eh così facciamo un po' di pratica facciamo anche un set timeout ehm quindi facciamo una funzione che fa il clear interval di id eh dopo 5 secondi facciamo così eh il parametro successivo non ci serve perché la callback non prende niente però potremmo metterli se la la nostra callback prendesse qualcosa ma non ci serve allora quindi questo clear interval è solo di esempio non ci serve perché mi segna questa parentesi clear interval allora facciamo solo il conto delle parentesi no questo è di troppo eh ok bene quindi cosa ho fatto a parte la mia iniziale dopo un secondo stampa in rigolo ma che la la lasciando a parte io ho detto ogni due secondi fai console log ciao però all'inizio ho anche detto dopo 5 secondi file clear interval dell'id che ti è stato ritornato dal set interval ok quindi smetterà e non avendo più niente da aspettare terminerà il programma eh uno due poi dopo dopo 5 secondi ha detto clear interval node si accorge che non ci sono più ehm diciamo eventi che possono verificarsi perché non è che possiamo cliccare o fare qualcosa e allora termino ok quello che però vorrei che fosse chiaro a tutti e poi direi che sì sostanzialmente abbiamo finito eh e poi vabbè possiamo dire due parole su quello ma tanto la prossima volta lo riprendiamo ecco ehm quello che vorrei fosse chiaro a tutti è l'ordine col quale avvengono le operazioni eh cioè eh adesso non so se deve andare ma diciamo queste operazioni la prima è una definizione di funzione avviene subito no cioè l'interprete legge assegna un riferimento a ciao che corrisponde al codice alla funzione punto poi subito viene eseguita la set timeout questa imposta dentro node un evento futuro in cui è collegato il codice ciao ok poi continua subito id id viene assegnato un valore immediatamente ecco possiamo fare così console.log.id eh questo valore esce subito la set interval ritorna subito come la set timeout impostano solo un evento ok cioè dicono all'interprete node l'ambiente esecuzione node di mettersi da parte questa cosa e di chiamarcela poi ok set timeout idem viene eseguita subito ok e poi e poi il programma sarebbe finito però node non termina perché perché sa che ha della roba che genererà degli eventi futuri quindi del codice da eseguire nel futuro ok quindi facciamo facciamo la prova vedrete che usce subito ecco questo timeout vabbè che non è un numero è un oggetto un po' complesso a noi non interessa cosa sia un puntatore un riferimento ad un oggetto che la la clear timeout no scusate la clear interval è in grado di gestire ok ma a noi non interessa però vedete che io lo lancio è subito lì perché il codice quello che abbiamo scritto viene subito eseguito quello che viene eseguito dopo è il codice della funzione delle funzioni che sono richiamate in maniera asincrona no quindi non chiamate subito da noi ma chiamate dall'ambiente di esecuzione quindi da node quindi questo codice che scrive ciao tizio no e questo codice che scrive ciao ok e questo codice che non ha un effetto visibile quindi non scrive sulla console ma disattiva l'intervalle quindi gli dice smetti di auto richiamarti ok quindi vabbè poi la prossima volta lo riprendiamo perché abbiamo bisogno di un modulo per fare l'input output da tastiera un po' come facciamo col c però siccome l'input output è per definizione asincrono perché l'input output è sempre asincrono in javascript dobbiamo gestirlo come asincrono se vogliamo fare le cose per bene se no ci sarà anche la readline bloccante diciamo tipo la scanf del c bloccante voi arrivate lì il programma si ferma stessa cosa si può fare con un modulo che abbia una readline cioè un legge da tastiera in maniera bloccante ma ovviamente vogliamo provare l'asincrono quindi cosa facciamo qui cioè in sostanza per avere input dall'esterno che siamo noi che scriviamo che leggiamo dal file che arrivi da un database da qualsiasi cosa noi diciamo quando hai fatto esegui questa callback che è la stessa idea di quello che abbiamo messo nella set timeout e set interval codice da eseguire poi al verificarsi una certa condizione qui la condizione la decideremo noi quando premiamo invio abbiamo dato la stringa questa stringa finirà come parametro della nostra callback perché? perché chi ha scritto il modulo con il metodo question ha deciso così ok? va bene direi che oggi stranamente siamo riusciti a stare nei tempi vi devo fare il commit dell'ultimo file vero? ok? quindi esempio timeout e push ok quindi se avete dei dubbi o domande io sono qui mentre che smonto posso rispondere aiutarvi con code con qualsiasi cosa spero giovedì c'è il laboratorio diciamo domani mattina pubblichiamo la lista dei gruppi degli assegnamenti agli slot eccetera ma come vi dicevo non intravedo particolari problemi l'unica cosa come ho scritto su slack se per caso c'è qualcuno che ha pensato di venire alle 10 vuol cambiare orario sicuramente si trova meno gente in laboratorio quindi o prima o dopo se può perché so anche che dopo c'è quel problema di sovrapposizione ok? ho visto che più o meno avete aderito quasi tutti c'è un percentuale non so sarà meno del 10% fisiologica insomma che per qualche motivo non può e così via ma tutto bene il primo laboratorio sarà particolarmente semplice non aspettatevi chissà cosa sarà pubblicato sul github prima per cui se non potete venire se quel giorno c'è un problema eccetera trovate il testo e poi metteremo anche la soluzione anche se comunque sarà una cosa semplice sarà un giocare con gli array con gli oggetti come abbiamo fatto stamattina oltre che far funzionare il tutto per cui magari se avete bisogno non vi funziona non siete riusciti a installare non riuscite a clonare se volete clonare se avete qualsiasi tipo di problema vi aiutiamo per qualsiasi cosa ci sarò io salvo imprevisti dalle 8.30 alle 10 ci sarà il professor Servetti dalle 10 alle 11.30 ci sarà il professor Science dalle 11.30 alle 13 queste cose cambieranno un po' di settimana in settimana a seconda degli impegni però insomma qualcuno c'è sempre oltre ai borsisti quindi uno studente che ha già seguito il corso che anche lì ci aiuterà durante i laboratori per tutte e tre le squadre cioè in realtà sono tre studenti ma comunque saremo sempre in due ecco quindi cercate di sfruttare al massimo questi laboratori ovviamente è il mio consiglio visto che li possiamo fare in presenza e sono un po' più facili da gestire che quelli remoti ovviamente va bene grazie e ci vediamo giovedì